Elbaman Elbaman è una gara di triathlon full distance nata nel 2005, che si svolge all'isola d'Elba. Dal 2009 è affiancata da Elbaga Elbaman 73, che sarebbe un 70.3 ma l'hanno chiamata così altrimenti la VTC e faceva causa. Si nuota nella bellissima baia di marina di campo. Invece di nuotare puoi decidere di nasconderti ed uscire dall'acqua prima degli altri ma se te beccano ci fai una figura de merda. Il percorso bici di Elbaman è un gran buccio di culo. Se sei una pippa quelli forti ti doppiano e ti gridano a lei. Sul circuito bici se c'è bel tempo e guardi verso il mare vedi la Corsica. Se diluvia meglio che guardi la strada sino te ritrovano in Corsica. Almeno la corsa è in pianura. Amedeo quando finisce la gara se magna sempre 141.233.427 gelati. Mentre gareggi i parenti che sono venuti a vederti se vanno a comprare acqua dell'Elba. Chi finisce la gara ringrazia sempre la famiglia Scotti. La famiglia Scotti sono quelli che organizzano la gara. Marco Scotti, Riccardo Scotti, Massimo Scotti, Tino Scotti, Franco Scotti, Roberto Scotti, Michele Scotti, Andrea Scotti, Giovanni Scotti, Giuseppe Scotti. No, Gerry Scotti non c'è. Ah! Se finisci 56.823 edizioni te regalano un'iscrizione a gratis. Marco Scotti non si taglia i peli alle gambe. Grazie. Grazie a tutti. Alla prossima. Cosa. Cosa. Grazie a tutti. Aguanta.